Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it Che vittoria è questa? La sostanzione di superiorità che si sta ripetendo in un settimale forse non ce l'ha mai vista. Perché noi abbiamo un grande allenatore, un grande giocatore e in un giocatore sottentrì a un livello si amalgamano molto bene. Questo è il contatto, non c'è solo la stessa, ci sono tutti i livelli a livello giusto, non giocatori e non giocatori. Presidente, è evitabile chiederle l'emozione di ritrovare il tuo Gozic stasera, che emozione è stata? E' un grande giocatore, è un mio grande amico, e quindi meritava tutti gli applausi che aveva avuto per venire Bologna ad agitare.